ciao ragazzi tutti in questo nuovo video in questo pomeriggio di lunedì allora diciamo che è fatta è fatta giuntoli si muove in anticipo e fa un nuovo acquisto per la prossima stagione addirittura c'è già chi parla che questo questo lo farà a gennaio ragazzi però prima di dirvi di chi si tratta non so se vedete esso nella copertina adesso vedrò come farla però attenzione ragazzi guardate il video fino alla fine mettete il like grazie a questo video iscrivetevi al canale condividete il video su tutti i vostri social e attivate la campanella per le notifiche per non perdervi mai le notizie su quando io pubblicherò i video e vi ricordo se vi abbonate al pezzo minimo dei abbonamenti i video che io pubblicherò in anteprima voi li vedrete subito prima della data dell'orario che va programmato quindi se vi fa piacere abbonatevi costa pochissimo ragazzi invece mettere il like e l'iscrizione non vi costa niente però per me vuol dire molto allora ragazzi di chi stiamo parlando diciamo che giuntoli e motta hanno fatto hanno preso un giocatore in prestito che ha sorpreso tutti quanti sia noi tifosi sia gli addetti al lavoro sia i giornalisti perché nessuno ci pensava a questo giocatore per la difesa dopo che sono sfumati sia Calafiori che totipo e giuntoli è andato a perdere Calulu molti tifosi erano scettici anche gli addetti al lavoro erano scettici dicevano perché Calulu viene da un infortunio ha giocato bene l'anno lo scritto del milan quello si è un giovane giocatore però dice si riprenderà bene da questo infortunio nessuno era sicuro giuntoli forse ci vede oltre forse è un veggente anche tiago motta sarà un veggente non so cosa sia successo ma questo giocatore ragazzi si è rivelato indispensabile per la Juventus ovviamente stiamo parlando di Pier Calulu che io anche io era un po scettico nel senso diciamo viene da un infortunio si per me giocherà poche partite non verrà messo subito all'inizio invece ragazzi messo sia come esterno di difesa o come centrale insieme a Bremen ragazzi ha sicuramente dato esito molto ma molto positivo è veramente un giocatore perfetto per la difesa diciamo possente non si fa non si fa passare da nessuno riesce a fermare due giocatori va in contrasto prende la palla a volte si muta anche in avanti è un giocatore veramente che sono soddisfatto dell'acquisto che ha fatto la Juventus ovvero il prestito però la notizia qual è data anche da Daniele Longo di calciomercato.com la notizia è questa qua che dicono che Calulu come Calafiori con Motta il grande salto di qualità perché sì al Milan era forte è stato forte poi purtroppo ho avuto l'infortunio ma con Motta per me ha fatto veramente il salto di qualità ha fatto il salto di qualità è per me ora indispensabile nella difesa della Juventus ora con Danilo che non non dà più certezze si può usare ripeto come esterno destro dall'altra parte abbiamo cambiato centrali abbiamo Bremer gatti ma se dovesse esserci gatti che non ce la fa qualche problema possiamo metterlo anche centrale di difesa e insieme a Bremer fanno un muro invalicabile tanto dalla parte esterna destra ci posso essere messo anche Savona poi abbiamo anche Cabal quindi abbiamo giocatori interessanti ma ora ci soffermiamo su Pier Calulu che la Juventus lo vuole riscattare eccolo qua Daniele Longo dice Calulu come Calafiori con Motta il grande salto di qualità Pier è un ragazzo top professionale per me è anche un ragazzo molto educato bravissimo professionale fa gruppo e assorbe gli insegnamenti come una spugna la Juventus lo riscatterà per 14 milioni più 3 di bonus e il Milan è stato messo questa clausola così il Milan ce lo lascia tranquillamente avrà il 10% sulla futura rivendita quindi se un giorno la Juventus dovesse vendere Pier Calulu il 10% dell'acquisto verrà dato al Milan quindi io sono contento perché da quando ho visto come gioca Calulu e stavo sempre con il pensiero spero che la Juventus lo vada a riscattare oppure chissà se la Juventus lo riscatterà abbiamo tanti riscatti oppure esercizi esercizi da contratti da pagare nei prossimi esercizi quindi se a somme se somme più più spese io non ero sicuro di Calulu e invece sono contento che la Juventus ha messo il punto definitivo su Calulu Calulu dal prossimo anno sarà un giocatore effettivo della Juventus sarà sotto la Juventus addirittura c'è chi dice che la Juventus addirittura potrebbe anche riscattarlo nella sessione invernale però c'è la certezza che la Juventus o in inverno o al massimo nella sessione estiva riscatterà questo difensore che è ripeto un giocatore molto giovane ok può ancora crescere ed è importante per la Juventus ripeto in un futuro che l'anno prossimo Danilo lascerà la Juventus questo è sicuro perché è a scadenza di contratto quindi come esterno un giocatore del genere ci serviva assolutamente perché Riccardo ha una corporatura possente difficilmente gli avversari lo passano lui va molto sulla palla in contrasto arriva sempre prima dell'avversario era un giocatore che ci serveva se dovessimo promuovere Savona che diventi anche lui un giocatore molto più provvedente di adesso che già è tanta roba ma dovesse crescere anche lui abbiamo Savona sulla fascia destra e mettere Pier Calulu al centro della difesa e ripeto che con Bremer sempre che perché girano voci che forse Bremer l'anno prossimo possa partire spero di no ma abbiamo comunque un Calulu centrale che può giocare anche a 3 difesa a 3 oppure con Gatti difesa a 4 due centrali anche Gatti è una corporatura anche lui molto possente molto alto è Juventino dentro si vede e quest'anno con Motta ripeto Gatti è cresciuto tantissimo Gatti è cresciuto tantissimo quindi ragazzi vedete il lavoro che fa Motta anche non solo sulla partita ma anche sui giocatori che li fa crescere li fa crescere e io sono molto contento di avere una difesa così tra virgolette chiamo impassibile invalicabile perché finora in 7 partite abbiamo subito soltanto un gol un gol poi preso per una disattenzione dei giocatori che ormai erano sicuri che la partita fosse finita dice mancano 10 secondi abbiamo preso quel gol gol che fa girare un po' le palle sì quello ok però possiamo capire che se i giocatori si stanno con la testa quest'anno è molto difficile segnare alla Juventus o passare la difesa giuventina quindi la Juventus ripeto acquisterà riscatterà Pier Calulu per la prossima stagione 14 milioni di netti più 3 di bonus e al Milan andrà 10% sulla futura rivendita che farà la Juventus con questo giocatore ragazzi fatemi sapere sotto voi cosa ne pensate se anche voi siete contenti come me se non siete contenti se per voi è un giocatore ancora da che deve crescere per me no è già per me è già un giocatore fatto che è titolare per la Juventus per tutto quest'anno mettete like commentate condividete iscrivetevi al canale fino alla fine forza Juventus e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao